Eccoci, dunque, aspettiamo un attimo che le persone si accorgano che la diretta è partita. Tu mi senti correttamente, Riva? Sì, sì, tu a me. Perfetto. Aspettiamo un attimo, ok, vedo che inizia a connettersi qualcuno, quindi inizio con salutare chi ha iniziato a seguirci. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Beh, intanto che piano piano la gente inizia a connettersi, a ricevere la notifica dell'inizio della diretta, faccio le presentazioni, così spiego un po' chi siamo. Siamo entrambe, sia io, Elisa Bolchi, sia Riva e Stifeva, Correggimi, per favore, perché sono un disastro. Siamo entrambe Marie Curie Fello. Io, le Marie Curie, per chi non lo sapesse, sono borse di studio, borse di ricerca, erogate e finanziate dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, che appunto si è concluso nel 2020, il prossimo sarà Horizon Europe, quindi sono borse appunto abbastanza importanti, finanziate dall'Unione Europea. Io, nello specifico, lavoro con l'Università di Reading, nel Regno Unito, mentre Riva lavora alla Sorbonne Université di Parigi. Come nasce l'idea di questo incontro? Allora, in modo abbastanza curioso, in epoca Covid non è così facile fare networking, cioè incontrarsi, scambiarsi le idee, che è un po' la linfa vitale però del lavoro dei ricercatori, perché appunto è il sentiero, il terreno in cui ci si scambiano idee, ci si confronta, ci si arricchisce reciprocamente. In questo periodo questo è ovviamente venuto a mancare, sia io sia Riva abbiamo dovuto rinunciare a tantissime conferenze, anche quelle che avremmo organizzato noi per il nostro progetto. Fortunatamente però ci sono i social network, cioè nello specifico, nel nostro caso, Galeotto fu un gruppo di Marie Curie Fellow, il Marie Curie Fellow Network, dove ci siamo incontrate fortuitamente nei commenti. Riva ha notato il mio progetto e ha detto ma lavoriamo su cose simili, appunto grazie al fatto che da brave Marie Curie Fellow abbiamo sempre le antenne alzate, siamo sempre attente a stimoli e curiose di conoscerci reciprocamente, mi ha contattata e ci siamo dette ma senti, visto che la nostra metodologia è così simile e i nostri progetti, anche se apparentemente molto diversi, hanno in realtà molti punti in comune, perché non facciamo qualcosa. E così è nata l'idea di questo incontro. Inizio allora a parlarvi del mio di progetto, poi così Riva potrà parlarvi del suo, perché quello che ci piacerebbe oggi è proprio delineare come alcune metodologie della nostra ricerca siano simili e quindi come il lavoro sulla ricezione possa essere, possa trovare delle metodologie comuni perché speriamo che magari possa essere di spunto, di ispirazione o di stimolo per altri giovani ricercatori o giovani ricercatrici. Dunque il mio progetto di ricerca si intitola Virginia Woolf in Italian Readers e riguarda la ricezione di Virginia Woolf in Italia. Significa che studierò come da chi è stata tradotta, pubblicata, recensita e studiata in Italia e la mia attenzione sarà soprattutto orientata verso le lettrici e i lettori. Chi la leggeva prima, chi la legge ora, in che maniera il modo in cui è stata presentata a lettori e lettrici, ad esempio negli articoli a lei dedicati, ha influito sull'immagine, ha aiutato a modellare l'immagine che si aveva di lei e del suo lavoro e quali fattori culturali, editoriali e sociali hanno contribuito a fare di Woolf un'icona culturale in Italia. Questo grosso modo è il mio progetto. Avrei dovuto mettermi il mio bannerino con il sito dove trovate maggiori informazioni, ve lo lascio adesso e lascio invece che si arriva a parlare con molta più competenza del suo di progetto. Buongiorno, dunque il mio progetto come quello di Elisa è dedicato alla ricezione però internazionale di uno scrittore che è Balthasar Gretzian cerco di fargli vedere il ritratto di lui il più famoso, qualche informazione, eccoci. Dunque, Balthasar Gretzian come vedete è uno scrittore spagnolo del XVII secolo, era un gesuita e le sue opere per lo più raccontavano i modi di raggiungere la perfezione morale e intellettuale. Molte di queste opere, qui vedete i titoli di tutte le sue opere come vedete la sua produzione letteraria non è infinita e alcune delle sue opere, soprattutto quella alla cui ricezione mi dedico di più che è Oracolo, Manual e Arte di Prudenzia quindi questa e altre opere erano impresse in questo formato qua quindi molto piccoli, prontuari all'uso quotidiano di una persona impegnata diciamo nella vita quotidiana nella vita sociale, politica e di qualsiasi altro tipo quindi uno dice ma cosa avrà in comune questo scrittore con la Virginia Woolf e infatti sembra un accostamento un po' paradossale in realtà c'è qualcosa che le accomuna e che accomuna anche la loro ricezione il fatto che siano così tanto letti io direi che quasi la ricezione di Balthasar Gretzian supera la sua lettura è quasi più tradotto che letto la diffusione della sua opera è incredibile ci sono le traduzioni in Estonia, in Kazakistan in Cina, in Giappone, in Brasile quindi veramente praticamente tutto il mondo però resta uno scrittore il cui nome quando lo pronuncio poche persone sanno di chi sto parlando fuori dal campo dell'ispanistica o da chi ha avuto a che fare con la letteratura spagnola però è uno scrittore veramente affascinante l'avevo scoperto in realtà durante il dottorato proprio grazie alla sua ricezione cioè mi occupavo di un testo russo che poi si è rivelato una traduzione di una traduzione di un'opera di Balthasar Gretzian quindi già il fatto insomma di avere una ricezione così ampia e le accomuno ma non è solamente questo Balthasar Gretzian è un gesuite, è un religioso però è un religioso molto molto sui generis ed è un religioso anche leggermente sovversivo soprattutto nella sua carriera letteraria infatti lui non aveva l'autorizzazione di pubblicare le opere letterarie non approvate dai suoi superiori delle opere di contenuto laico però l'ha voluto fare, l'ha fatto in vari modi cercando di aggirare questo divieto anche sotto pseudonimo di uno dei suoi fratelli per esempio e questa produzione letteraria data alla stampa gli ha costato sicuramente la carriera perché dopo la pubblicazione del terzo volume del suo romanzo allegorico il criticon è stato rinchiuso in una cella solitaria con il divieto di toccare la carta e la penna quando l'hanno liberato dopo pochi mesi è morto quindi probabilmente insomma anche la sua salute è stata fortemente compromessa da questo episodio quindi stiamo parlando nel caso di Balthasar Gretzian e Virginia Woolf di due outsiders di due persone abbastanza particolari poi entrambi condividono anche uno tratto stilistico Balthasar Gretzian creava nell'epoca barocca mentre Virginia Woolf nell'epoca del modernismo sono entrambi periodi di grande sperimentazione artistica e anche letteraria alla ricerca di una nuova espressività per Balthasar Gretzian il piacere della lettura è un piacere non solamente estetico è fortemente intellettuale a questa componente intellettuale molto pronunciata quindi per capire di cosa si tratta anche ci vuole uno sforzo notevole intellettuale diciamo bisogna decifrare in qualche modo quello che c'è scritto non sono delle letture facili, semplici che ci trasportano in un altro mondo rapidamente e poi entrambi quindi Balthasar Gretzian e Virginia Woolf richiedono dai suoi lettori in realtà un continuo lavoro intellettuale bisogna essere in qualche maniera pronti alla lettura dei loro testi bisogna avere già un po' di cultura letteraria anche se comunque non basta non basta nessun tipo di background letterario per entrare facilmente nei loro scritti perché comunque stanno sperimentando entrambi strade nuove ancora non battute dagli altri scrittori quindi come vedete alcuni punti in comune tra queste due figure apparentemente molto lontane ci sono oltre al fatto che tra queste persone in sé e il loro percorso letterario ci sono dei punti in comune questo ha portato a me e Elisa a vedere anche alcune metodologie delle nostre ricerche ad essere un po' simili in alcuni punti questo ci ha sorpreso molte quando ci stavamo confrontando sulle rispettive ricerche però è vero tra l'altro entrambe anche noi come i nostri scrittori cerchiamo un po' dobbiamo anche in realtà siamo obbligate ad essere anche abbastanza creative a cercare anche noi alcuni sentieri ancora non battuti in realtà gli studi sulla ricezione non sono nuovissimi è vero ma non è neanche un campo con una metodologia già rigida quindi diciamo un po' per forza questo campo ci costringe a cercare come potremmo studiare al meglio il materiale che abbiamo e con quali strumenti quali strumenti possiamo utilizzare per rispondere alle questioni che ci poniamo e quindi volevamo dire due parole appunto sulle rispettive metodologie pensavamo di parlare un po' dei cataloghi delle traduzioni che stiamo facendo entrambe il mio in realtà è già pubblicato quello di Elisa sarà pubblicato a breve entrambe abbiamo individuato in questo campo sterminato della ricezione del nostro scrittore delle ondate e parleremo delle rispettive ondate entrambe abbiamo prestato molta attenzione alla prosopografia dei traduttori cioè il loro profilo biografico e ideologico un po' perché spiega il perché di queste ondate e poi è anche in realtà è anche avvincente perché è venuta fuori a entrambe una serie di ritratti di personaggi a volte veramente appassionanti e in alcune occasioni sconosciuti e quindi in alcune occasioni siamo state un po' noi a dare il volto e la voce propria a questi traduttori e infine ovviamente trattandosi di due scrittori che hanno questa peculiarità stilistica entrambe dobbiamo domandarci molto su come si può tradurre questi testi non è così evidente di come tradurre un testo con questo profilo stilistico ma lo vedrete vi faremo degli esempi quindi due parole del mio catalogo allora intanto vi faccio vedere dove si trova dove dove ha la residenza in questo momento il mio catalogo consultabile condivido lo schermo e lancio la presentazione quindi ho fatto ho creato un sito un sito internet per il mio progetto si chiama VirMaximus è sul piattaforma wordpress quindi è VirMaximus wordpress non è il link che vi sto dando io ma ve lo daremo giusto comunque lo potete trovare con relativa facilità anche semplicemente cercando su google VirMaximus grazie già vi dovrebbe uscire quindi sul sito qui ci sono il menu con varie pagine sulla pagina catalog potrete incontrare questa serie di bottoncini azzurri ogni bottoncino è in realtà un link verso un file scaricabile quindi c'è una tabella generica vi faccio vedere cos'è e poi ci sono dei profili di ogni traduzione allora il luogo ufficiale della pubblicazione del catalogo però in una forma un po' meno user friendly è il depositorio dei dati Zenodo normalmente lo utilizzano dei major biologi fisici che hanno dei data set che pubblicano quando non può essere trasformato in una vera e propria pubblicazione in un articolo ma semplicemente vogliono dare una certa visibilità e un nome un'identità a questo set di dati lo pubblicano in questo depositorio quindi anch'io ho questo mio piccolo banco di dati l'ho messo lì e quindi lì scaricandolo da Zenodo o scaricandolo dal sito ci sono questi due tipi di materiale c'è la grande tabella in Excel che può essere utilizzata diciamo lì sono veramente è un insieme di dati quindi si può essere si può fare una classificazione tutta sua dipende dai criteri e poi ci sono dei file per ogni traduzione dove è un po' più facile per la lettura per la consultazione se si vogliono reperire le informazioni solo su una singola traduzione quindi questo catalogo un attimo fermo la condivisione allora questo catalogo è come avete visto una serie di entrate del catalogo però dietro ogni linea dietro ogni cella praticamente c'è una serie in realtà di scelti di compromessi cioè il lavoro di ricercatori che crea una tabella di dati in realtà è molto complesso faccio due esempi un esempio è la georeferenziazione quindi come avrete visto ho messo nella tabella il luogo della pubblicazione con coordinate geografiche precise così che per esempio se una persona vuole creare una mappa anche interattiva della ricezione Grafian su uno spazio geografico lo può fare prendendo questa tabella utilizzando solo alcune delle colonne e quindi diciamo potrà tenere una mappa con dei puntini di qua e di là e fare delle analisi d'insieme però per indicare un luogo in cui è uscita una traduzione in realtà questo intanto non è banale e poi quello che ci comunica il luogo di pubblicazione è molto diverso per le traduzioni del XVII secolo e del XX secolo per esempio faccio due esempi contrastanti molto banali se le traduzioni polacche molte nel XX secolo sono pubblicate a Glivice non è perché Glivice è un centro culturale mega importante della colonia è semplicemente una periferia di Varsavia dove si trova una grandissima casa editrice un polo industriale mentre invece per il XVII secolo il luogo della pubblicazione ci dice moltissimo quindi già guardando il luogo di pubblicazione di un libro si possono trarre delle conclusioni per gli esempi concreti vi rimando al mio libro perché il mio libro è un catalogo è un commento a questo catalogo il libro che si chiama La traversata europea di Balthasar Grafiano uscito di recente quindi ormai esiste questo libro e il secondo esempio è allora se uno vuole capire quante traduzioni esistono guardando il mio catalogo in realtà non può avere una risposta semplice perché ogni rigo bisognava scegliere decidere a cosa deve corrispondere un'entrata e lì una delle domande più importanti che dovevo pormi era se c'è un libro in cui sono pubblicate per esempio le traduzioni di cinque opere diverse di Balthasar Grafiano come lo considero come un'entrata o come cinque entrate differenti perché è importante questa scelta perché poi da questo dipenderà a quali domande potrò rispondere avendo in mano solamente questa tabella perché se io per esempio metto insieme tutte le traduzioni cinque traduzioni in un solo rigo potrò individuare potrò quantificare i focolai di interesse verso Balthasar Grafiano mentre se io voglio sapere per esempio quante volte è stato tradotto oracolo manuale se ho una tabella organizzata così in cui cinque testi fanno parte di un rigo solo non potrò quantificare facilmente quindi questo è solo uno degli esempi della quantità di compromessi che ci stanno dietro a ogni tabella adesso forse Elisa parlando del suo catalogo ve ne potrà fare altri grazie mille Riva dunque anch'io sì ho scelto ho fatto la scelta di fare un database cioè di realizzare un database online mi sono un po' complicata la vita perché vabbè avendo molto più materiale da raccogliere perché avrei dovuto raccogliere cioè sto raccogliendo anche tutte le recensioni a Virginia Woolf apparse in Italia tutti gli studi gli articoli i capitoli di libro pubblicati su di lei ovviamente sarebbe diventato un catalogo ingestibile da gestire con un semplice database e quindi volevo una user experience come si usa a dire adesso più facile più confortevole diciamo anche perché appunto il mio focus come ho detto sono i lettori quindi volevo che anche il lettore nella fruizione o la lettrice nella fruizione potesse godere appieno del prodotto poi finale della mia ricerca questa è una cosa di cui avevamo pensato di parlare proprio su questo questa parte digitale del progetto perché non solo è una cosa che accomuna il nostro progetto di ricerca ma è anche qualcosa che aiuta molto nella scrittura del progetto Marie Curie insomma avere questo approccio più digitale per chi fosse interessato a tentare di fare di concorrere insomma alle borse Marie Curie sappiate che insomma la parte digitale che ci sia un prodotto che poi aiuta la ricerca futura di eventuali colleghi eccetera è sempre un punto a vostro favore nel vostro progetto dunque venendo al mio lavoro provo a dirvi qualcosa della metodologia che ho scelto io ovvero appunto di partire dagli user e dalla user experience quindi la prima cosa che ho fatto su consiglio di una serie di esperti in digital humanities è stato individuare i futuri utilizzatori del del database quindi anche grazie alla Italian Virginia Wool Society che ho fondato insieme a Anna De Fusini Liana Rampello e Yolanda Plescia e quindi mi permetteva di avere una grande rete di contatti all'interno del mondo di interessati a Virginia Woolf interessati a Virginia Woolf ho provato a chiedere ma se dovesse esserci un sito o un database in cui potete cercare le opere tra la critica le opere le traduzioni di Woolf come lo usereste cosa vorreste e ho identificato intanto sette tipologie principali di database user cioè ovviamente gli studiosi e le studiose che possono essere studiose di Woolf o di studi sull'editoria o di translation studies ma anche studenti ovviamente immaginavo proprio banalmente i tesisti o le tesiste le insegnanti che magari volevano avere qualche materiale nuovo per parlare di Woolf in classe ma anche raccogliendo le varie testimonianze mi sono accorta che interesse in questa cosa si poteva trovare anche da parte di collezionisti di libri che magari volevano essere sicuri di avere tutte le edizioni pubblicate in Italia o anche lettori appassionati o bibliotecari che magari dovevano fare un evento su Woolf e potevano chiamare la persona più adatta quella che si era proprio occupata di quell'aspetto e infine ovviamente libraie librai perché bisognava poi venderli anche i libri ho quindi provato a immaginare non solo a immaginare ma mi sono fatta raccontare dove potevo dove non potevo invece ho provato a immaginare come avrebbero utilizzato questo database cioè cosa vorrei da questo database ad esempio devo scrivere un articolo su Woolf e la musica però non so se altri in Italia se ne sono occupati e quindi non voglio né sovrappormi a quello che già esiste e magari invece però mi serve quello che è stato scritto come base di partenza per la mia bibliografia vado sul mio database metto music e vedo quanto cosa mi compare perché tutto questo perché il mio database volevo che avesse anche le keywords quindi non solo titolo e come si dice titolo e autore e anno e pubblicazione editore per la ricerca ma anche appunto la possibilità di cercare per parole chiave adesso io vorrei farvi vedere ecco qui dopo fatto questo passaggio sono andata a creare un data model perché appunto siccome volevo che poi il mio database avesse apparisse un po' come un opac della biblioteca in cui voi andate a inserire la vostra la vostra parolina e poi vi viene l'elenco già dei risultati bello comodo e interattivo cioè dove andavo a cliccare la persona non so ho la traduttrice Nadia Fusini clicco e mi vengono tutte le opere che Fusini ha scritto tradotto eccetera non solo le opere cioè le opere che hanno a che fare con V ovviamente non in generale per fare questo ho quindi dovuto creare un data model che avesse tutti i tipi di relazione dei vari campi tra di loro per cui cercare di capire quali sarebbero stati interdipendenti fra loro quindi ho capito che avevo delle macro famiglie che erano appunto works cioè le opere vere e proprie gli articoli che comprendevano che comprendono anche i capitoli di libro e poi people cioè le persone che interagiscono people possono essere può essere l'autore ma può essere anche la traduttrice il traduttore il curatore l'illustratrice eccetera ho poi capito che la cosa migliore da fare era creare una dipendenza diretta quindi come se fossero padre e figlio tra le opere vere e proprie e le editions che cosa sarebbero nella mia personale costruzione di questo database le editions sono le ritraduzioni di una stessa opera questo fa sì che chi accede al database e fa una ricerca non so cerca Dalloway trova la prima traduzione di Mrs. Dalloway e poi in ordine cronologico tutte le altre ritraduzioni di Mrs. Dalloway che dipendono dalla prima in questo modo diventa anche più facile per chi appunto osserva i risultati sapere come funzionano le ondate della ricezione perché appunto ho identificato cinque ondate nella ricezione di Wolf in Italia la prima ricezione che è quella su riviste periodici letterari poi il lettore comune adesso vi spiego un attimo perché mi ci interessava parlarvi di queste ondate della ricezione perché in realtà è una di quelle cose che io e Riva abbiamo notato di avere anche queste in comune cioè entrambe intanto abbiamo usato la parola ondate per parlare dei diversi momenti della ricezione e entrambe la abbiamo parlato del contesto non solo cronologico cioè del momento storico in cui avviene una determinata ricezione ma anche delle influenze culturali sociali ideologiche eccetera che hanno influito su quella particolare ondata questo perché studiando la ricezione appare evidente come non sia una costante cioè non è sempre uguale la ricezione di un autore o di un'autrice ma appunto subisce un movimento sinusoide no a onda per cui ci sono dei momenti in cui si impenna l'interesse e dei momenti in cui invece questo cala quindi nel mio caso specifico alla prima ricezione che esaltava la sperimentazione linguistica eccetera segue poi un periodo un po' di disinteresse legato anche al periodo difficile del fascismo che poi risale questo interesse quando si passa dalla lettura diciamo che ho definito dal lettore comune si passa a uno studio molto più accademico molto più di intellettuali dell'autrice e poi di nuovo trova un'intennata con la prima ricezione femminista quindi quando inizia a essere letta nei circoli femministi inizia a si traduce ad esempio le tre guinee per la prima volta in Italia nel 75 quindi davvero si inizia a leggere con una chiave diversa la scrittrice poi di nuovo tende a scemare un pochino l'attenzione all'autrice e risale con quando c'è una nuova ondata di ritraduzioni nel 91 infatti i diritti scadono per la prima volta dico per la prima volta perché all'inizio i diritti in Italia i diritti sulla traduzione duravano fino ai 50 anni per 50 anni dopo la morte dell'autore nel 93 però viene stesa questa durata a 70 anni quindi in realtà per un paio d'anni Woolf rimane fuori i diritti e quindi c'è una prima ondata di ritraduzioni e poi di nuovo i diritti non sono più nel pubblico dominio fino al 2011 in questo periodo proprio Nadia Fosini inizia a ritradurre una serie di opere di Woolf tra cui ovviamente i suoi romanzi più importanti e più noti Mrs. Dalloway To the Lighthouse and the Waves e poi curerà l'edizione dei Meridiani che come sapete è la collana che consacra lo status di classico negli scrittori alla fine cioè per gli scrittori in Italia l'ultima ondata che ho identificato è quella che io chiamo Italian Wolf Renaissance perché appunto da icona culturale Woolf diventa anche icona quasi pop nel senso che quando di nuovo scadono i diritti a questo punto dopo i 70 anni dalla morte dell'autore c'è questa grande ondata di ritraduzioni di nuove edizioni e addirittura Woolf diventa gadget per Einaudi diventa un telomare per Feltrinelli diventa il play d'invernale insomma davvero diventa quasi un gadget pop e inoltre cosa che ha molto più a che fare con la Renaissance diventa di ispirazione per altri artisti altre artiste nello specifico non solo per spettacoli teatrali che già c'erano state ma per mostre di fotografia e per esibizioni di quadri anche esposizioni di quadri cioè proprio interi lavori pittorici e quindi insomma questo è proprio quello che poi succede in un rinascimento quando un autore diventa ispirazione diretta vedo che ci sono delle domande e se vi sta bene rispondiamo a tutto alla fine così ci prendiamo poi il tempo per la discussione quindi queste sono le mie ondate adesso lascio la parola arriva per raccontarvi le sue di ondate cioè quelle che sono le ondate che lei ha identificato in Graciane allora grazie Elisa cerco di ricondividere il mio schermo e di metterlo in modalità presentazione eccoci qua quindi di nuovo queste queste ondate le potete trovare si vedono molto bene già a partire dall'indice del libro che ho pubblicato come il commento al catalogo non ve l'avevo fatto vedere prima adesso mi correggo ecco lo potete vedere qui quindi la traversata europea di Balthasar Grafian il supplemento al catalogo di traduzioni e quindi qui ecco l'indice di questo libro e quindi come vedete ci sono i tre capitoli capitolo primo secondo e terzo che corrispondono alle grandi alle grandi ondate per le corti europee per il secolo XVII XVIII è veramente un periodo in cui la ricezione di Balthasar Grafian passa per i corti per le grandi corti europee quelle di Versailles quelle di Berlino quelle di Vienna ed è un tipo di ricezione molto particolare con le implicazioni politiche molto importanti ma politiche di un tipo della politica di un senso della politica molto peculiare per questo periodo poi il secondo capitolo tratta diciamo lo sviluppo della ricezione di Grafian tra le grandi ideologie la seconda ondata parte grosso modo dalla traduzione effettuata da Schopenhauer e poi la vediamo crescere molto nel primo novecento e andare fino più o meno agli anni novanta e poi c'è la terza ondata importante è quella della fine del ventesimo secolo è quella che dura ancora che è quella che è stata diciamo almeno vista dall'Europa è un po' la ricezione di ritorno perché Grafian è arrivato ai lettori statunitensi i traduttori americani hanno fatto hanno proposto delle loro traduzioni e sono poi queste traduzioni a ridare una nuova ondata di interesse verso Grafian e questa ondata allora smetto di condividere allora questa strana ondata che diciamo parte dall'Europa arriva agli Stati Uniti e poi ritorna riporta indietro all'Europa una Baltasar Grafian molto differente dai due precedenti ed è una lettura diciamo che lo vendono come una lettura per i manager come costruirsi la carriera dentro un'azienda come gestire i rapporti con i colleghi come arrivare al successo diciamo che è entrata in una valanga di prontuari per i manager anche a fianco dei manuali di autoaiuto infatti a volte vediamo oracolo manual delle traduzioni dell'oracolo manual pubblicate dalle case editrici che si dedicano per lo più alla letteratura esoterica i manuali di yoga per dire di fenshumi tra yoga e fenshumi incontriamo all'improvviso questo gesuit del XVII secolo ma praticamente sempre ritradotto dalle versioni americane in questo in questo caso per darvi qualche per darvi qualche esempio anche della ricerca prosopografica volevo ritornare un po' indietro alla seconda grande ondata allora questa divisione ovviamente è un po' come dire non è assoluta se diciamo che in un certo periodo c'è già un'altra ondata non vuol dire che non ci sono ancora fenomeni assimilabili alla prima ondata o i fenomeni del tutto isolati che non si iscrivono nel grande movimento si parla veramente solo delle grandi tendenze quindi ritornando alla grande tendenza alla grande seconda ondata che vede Grazian che riesce a come dire toccare i cori e le menti dei lettori di schieramenti politici e ideologici anche totalmente opposti tra molti esempi di questo troviamo per esempio due personaggi di cui adesso cercherò di farvi vedere anche i volti dunque ricondivido lo schermo eccoci qua condividere allora partiamo con la presentazione tutto questo l'avete già visto e arriviamo a questa slide quindi qui vedete due personaggi due traduttori di Balthasar Grazian che appartenevano agli schieramenti politico ideologici veramente opposti allora il primo Gasparendre è ungherese era un ebreo ungherese fin dalla prima gioventù molto ispirato dalle idee comuniste quindi lui ha lavorato molto per il il governo comunista ungherese la repubblica comunista dell'Ungheria ha durato pochi mesi però lui era molto attivo sul piano editoriale scriveva e pubblicava articoli a sostegno di questa di questa nuova repubblica e poi quando però cessò di esistere questa repubblica lui ha dovuto emigrare ed è andato in Austria e lì essendo un poliblotta è diventato un critico teatrale scrittore diciamo si è dato all'attività intellettuale ed editoriale molto attiva e veramente traduceva da più lingue in più lingue quando poi in Austria l'Austria viene l'anschluss dell'Austria sostanzialmente lui finisce in un campo di concentramento perché è un ebreo e tutti lo sapevano i suoi amici influenti austriaci riescono a liberarlo e lui ha la possibilità di scappare dal paese e cosa fa? ritorna in Ungheria lì pubblica la sua traduzione dell'oracolo manuale in lingue ungherese dopo pochi mesi viene arrestato perché anche l'Ungheria entra nel campo dell'influenza nazista e quindi di nuovo finisce in un campo di concentramento da lì lo libera direttamente già l'armata rossa e quindi lui esce da lì liberato da loro ancora più comunista di come era già prima e per esempio scrive delle odi a Stalin quindi diciamo è una persona molto molto attiva anche a esprimere le sue vedute ideologiche e però nello stesso identico periodo storico vediamo incontriamo questo traduttore olandese belga Jan Timmermans che è figlio diciamo etnicamente olandese figlio di due genitori olandesi però nasce nel Belgio e nel Belgio lui anche di fin da giovane appoggia il nazionalismo fiammingo era anche contrario all'esistenza dello stato condiviso in Belgio come esiste oggi negli anni trenta diventa sempre più radicale su questa strada sempre più condivide le idee della destra radicale scrive e pubblica articoli di contenuto fortemente antisemita e durante l'occupazione nazista diventa sindaco di Anversa quindi sotto e per il governo nazista dopo la guerra quando il Belgio è liberato anche lui finisce in carcere e poi da lì visto che aveva una salute molto pagionevole lo fanno uscire gli restano pochi anni di vita e praticamente va in esilio non può più mettere piede nella città di Anversa ed è proprio in carcere che lui ha pubblicato la traduzione che ha fatto dell'oracolo manuale di Ibel Casalgrafian quindi come vedete due personaggi che veramente appartengono agli schieramenti ideologici assolutamente opposti non è l'unico esempio è il più lampante ma non è l'unico né ho altri però diciamo questo è il più evidente il più forte mi ero mutata sì mi ero mutata classico vabbè è un classico cioè se non c'è un momento in cui qualcuno ti dice sei su mute non è una video call dunque io non ho ovviamente dei casi di traduttori così diversi tra loro anche se vedremo che sarà l'ambiente culturale a renderli in realtà diversi ma vi faccio un esempio più avanti però volevo anch'io portarvi l'esempio di come la ricerca d'archivio abbia aiutato anche appunto a ricostruire l'immagine di personaggi che altrimenti sarebbero rimasti invisibili nello specifico appunto la prima traduttrice di Wolf in Italia è Alessandra Scalero per moltissimi anni non si è saputo praticamente nulla di questa traduttrice nel senso che si sapeva certo che aveva lavorato per Mondadori che aveva tradotto diverse opere per la Medusa Mondadori prima aveva tradotto per la Modernissima di Giandauli però non si sapeva nulla di lei nell'ambiente degli studiosi o delle studiosi di traduzione girava voce che fosse un po' una semi aristocratica diciamo figlia di buona famiglia che aveva avuto agio per viaggiare eccetera eccetera e così imparare le lingue questa credenza diciamo questi rumors venivano dal fatto che Alessandra Scalero scriveva a Mondadori su una carta intestata Castello di Montestrutto cioè l'indirizzo era il Castello di Montestrutto e quindi si pensava insomma che lei abitasse in questo castello non avendo altre notizie su di lei succede poi però che gli eredi della famiglia Scalero vendettero questo famoso castello di Montestrutto e cedettero tutte le carte della famiglia Scalero alla biblioteca del paesiello più vicino che è Mazze in provincia di Torino questi documenti in realtà svelano una famiglia ben diversa da quelli che erano appunto i rumors che giravano perché in primo luogo non erano assolutamente semi-aristocratici ma anzi le sorelle Scalero le tre sorelle Scalero erano figlie di un insegnante di violino che sì aveva viaggiato molto per il proprio lavoro ma non certo come ricco benestante o non so intellettuale che se ne andava in giro per il mondo semplicemente come insegnante di violino che andava e cercava di guadagnarsi da vivere quindi le figlie le due più grandi Liliana e Alessandra crebbero le scuole elementari in Austria dove impararono il tedesco quindi molto bene e impararono anche un po' d'inglese tornarono poi in Italia vivendo a casa di uno zio anche se in un bel quartiere di Roma e in realtà poi Alessandra Scalero si scopre da queste carte sarà autodidatta nella traduzione nel senso che finì prima del tempo il liceo classico per salute molto cagionevole che aveva sempre avuto entrò nell'American Red Cross come infermiera durante la pandemia di Spagnola e qui nella Red Cross diciamo che rispolverò un po' l'inglese e ricominciò a studiare l'inglese quando tornò a Roma si unì al Teatro Greco di Siracusa la compagnia del Teatro Greco di Siracusa iniziò a lavorare come costumista teatrale poi grazie al giro del Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia che lei frequentava fece le sue prime traduzioni di O'Neill di due pièce teatrali di O'Neill che però non andarono in scena per diversi anni e poi si spostò a Milano sempre attraverso questi agganci come costumista e nell'ambito teatrale e a Milano iniziò a lavorare per la Modernissima iniziò a conoscere un po' l'ambiente editoriale a suggerire lei a fare anche quasi da scout facendo proponendo nomi titoli e opere eccetera finché appunto non inizierà a tradurre davvero arrivando a diventare una cosiddetta traduttrice di lit perché Mondadori la chiamerà tra i traduttori che voleva giocarsi mettere in campo per questa nuova collana che stava fondando che era la Medusa che come sapete sarà una collana storica della storia editoriale dei Mondadori perché appunto quella che iniziava a pubblicare gli autori stranieri fra l'altro in epoca molto autarchica Scalero era tra i grandi traduttori selezionati insieme a Linati Prampolini e altri e addirittura inizia a lavorare per Mondadori a pieno servizio cioè a loro esclusivo servizio quindi viene fuori da queste carte d'archivio quando si parlava di scoperte cioè le scoperte è ovvio che noi umaniste non facciamo scoperte in laboratorio e ovviamente non sono paragonabili alle scoperte della scienza di nuovi vaccini o di cure però sono pur sempre scoperte che permettono di fare luce intanto su personaggi che rischierebbero ad esempio di andare dimenticati o di rimanere invisibili più ancora di quanto già sono invisibili i traduttori e le traduttrici e poi aiutano a fare luce ad esempio il carteggio tra Liliana e Alessandra il carteggio tra le due sorelle è bellissimo per fare luce su tutti i risvolti culturali editoriali di quegli anni quindi dell'Italia in pieno clima fascista vedere proprio come sale il clima fascista come all'inizio non sia così sentito e poi piano piano è sempre più presente come la censura sia sempre più preponderante di come queste due donne crescano e entrambe rimarranno nubili nessuna delle due si sposerà e come all'inizio quando erano molto giovani parlassero tanto di ragazzi possibili amori e poi invece come arrivi sempre più importante la parte intellettuale la parte del lavoro quindi è proprio anche interessante dal punto di vista di crescita del ruolo della donna nel mondo intellettuale italiano parlando poi di scoperte faccio proprio solo due rapidissimi esempi una cosa che ho ad esempio scoperto negli archivi di Alessandra Scalero è che il primo titolo di Mrs. Dalloway che propone Alessandra Scalero non fu la signora Dalloway come traduzione italiana ma fu una signora di società che poi invece il titolo venne cambiato quando nel 46 Emilio Cecchi faceva doveva essere il curatore di quella che doveva essere l'opera omnia di Woolf che invece poi non venne mai realizzata e c'è chi lo cambiò da una donna di società alla signora Dalloway gliene siamo grati perché sarebbe stato un po' bizzarro come titolo l'altra scoperta ad esempio è che appunto Mrs. Dalloway venne pubblicato nel 46 non per scelta di Mondadori cioè non fu tradotto nel 46 ma era dal 34 che cercavano di pubblicarlo nel 40 Alessandra Scalero consegna la traduzione ma dovrà aspettare perché problemi ovviamente di regime non permettevano la pubblicazione di un testo come Mrs. Dalloway per vari motivi perché sarebbe stato sicuramente oggetto di censura però poi magari di questo se può interessare ne parliamo ulteriormente però proprio per dare l'idea di come ci sia proprio una vera ricerca sul campo che può dare luogo a vere e proprie scoperte dico bene Riva Sì e per ultima cosa volevamo entrare anche nel merito delle traduzioni nel merito del lavoro di queste persone ad alcune delle quali io e Elisa abbiamo trovato nome volto dato voce e storia personale perché anche nella mia ricerca per vari traduttori ho dovuto ricostruire il percorso perché non se ne sapeva niente o molto poco e quindi per ultima cosa volevamo dire qualcosa sul loro lavoro e infatti restituire a loro anche la loro voce qui volevo fare un esempio subito di allora cerco di ricondividere lo schermo un esempio che ho preparato per voi allora così chi non conosce Baltasar Grafian potrà avvicinarsi un po' anche insomma al contenuto delle sue opere perché ormai della sua ricezione sapete molto ma del contenuto delle opere magari ancora non tantissimo quindi ho scelto un pezzetto dalla massima due allora è l'oracolo manuale l'oracolo manuale la sua opera più famosa la più tradotta è divisa in 300 frammenti diciamo dei paragrafetti e in ogni paragrafetto ci sono tra tre sei sette frasi scritte spesso in questa maniera che è molto propria almeno a una parte delle opere di Baltasar Grafian che è una maniera molto critica e anche molto elittica praticamente lui elimina cerca di eliminare dalla frase tutto ciò che a suo avviso non è carico di significato e tra le cose che secondo lui non sono molto cariche di significato ci sono per esempio il verbo essere praticamente lui non lo mette anche perché lui come molti scrittori ancora rinascimentali vorrebbe ridare allo spagnolo la dignità che aveva il latino e quindi anche avvicinare lo spagnolo a lui contemporaneo al latino e nella lingua latina come sapete insomma era possibile non mettere per niente il verbo essere al presente allora quindi do quindi una frase di Baltasar Grazian in differenti traduzioni italiane è stato molto tradotto in Italia l'Italia è forse il paese che più ha tradotto Grazian e so che esiste ancora almeno una traduzione dell'oracolo manuale in italiano che ancora non è uscita ma dovrebbe uscire la sto aspettando anch'io e con questo esempio vi volevo fare anche vi volevo far vedere quanto la lingua di una traduzione può dipendere dalla sua epoca come cambia come cambia la stessa frase attraverso i secoli ma anche farvi vedere che diciamo che è importante da quale traduzione partiamo ed è importante sempre tenere presente che c'è sempre una distanza tra la traduzione e il testo e qui se per esempio immaginiamo che ci approcciamo al testo di Baltasar Grazian attraverso la traduzione la più diffusa in Italia attualmente quella di Gasparetti di Antonio Gasparetti del 1967 leggeremo la frase che dice non basta essere intelligenti occorre essere geniali è una frase semplice comprensibile quindi già diciamo già da questa frase uno non coglie quanto è critico quanto è difficile da leggere Baltasar Grazian perché in questa frase insomma non c'è niente di difficile è molto chiara però se guardiamo se la confrontiamo con altre traduzioni vediamo che in effetti forse c'è qualcosa di più forse è un po' differente questa frase come vedete i termini che usano i traduttori per esempio l'ultimo termine è molto differente abbiamo la inclinazione del genio il genio la sensibilità dell'animo intuire essere geniali o l'ingegno che sono cose anche abbastanza differenti se voi vi immaginate un convegno di filosofi italiani che conoscono il testo di Baltasar Grazian ognuno attraverso una traduzione differente praticamente possono parlare per ore del concetto della sensibilità d'animo o dell'intuire dell'importanza dell'intuire in Grazian mentre in realtà nel suo testo non c'è né la sensibilità dell'animo né l'intuire né il geniale intuire c'è un certo genio questo genio è un concetto molto difficile effettivamente non è un caso che le traduzioni sono così differenti ogni traduttore cerca insomma a suo modo di trasportare questa parola in italiano di far vedere come sarebbe questa parola in italiano un'altra cosa che è forse importante sottolineare è che le traduzioni di Baltasar Grazian spesso sono ritraduzioni e nel secondo esempio 1698 il secondo esempio è una traduzione dal francese e quindi è molto più chiara molto più logica molto più razionale rispetto alla prima che è fatta direttamente dal testo spagnolo perché c'è di mezzo una traduzione francese di Nicolam Lodella Osei un altro traduttore a cui praticamente a cui ho dovuto aveva già un suo volto anche se sono stata la prima persona forse a trovare un'immagine che lo raffigura non sappiamo quanto fedele però insomma prima di me non se ne conoscevano chiusa la parentesi Nicolam Lodella Osei essendo perfettamente essendo un traduttore francese della fine del XVII secolo deve dare un testo chiaro infatti lui dice anche che certe metafore certe particolarità stilistiche di Belcasale della Tia nella nostra lingua cioè il francese non avrebbero funzionato nessuno avrebbe capito quindi ho dovuto cambiare infatti ha cambiato anche il titolo al posto di oracolo manuale si chiama l'homme de cour cioè l'uomo di corte e infatti questa traduzione italiana la seconda traduzione italiana di questo testo infatti si chiama l'uomo di corte quindi se uno diciamo non conosce non si orienta in questa complessa storia della ricezione di Balthasar Grafian farà fatica anche di capire tenendo di fronte due libri che si tratta di uno stesso testo né per il titolo né per il testo che legge perché in effetti come avete visto le varie traduzioni possono dire delle cose veramente molto diverse tra loro e adesso anche Elisa vi darà un esempio molto simile sul suo materiale sì sì è vero anch'io ho un esempio proprio cercato un esempio che dimostrasse come la traduzione di una stessa frase di fatto di uno stesso concetto potesse dare adito a letture molto diverse ho preso un esempio di un lavoro che sto proprio facendo in questo momento cioè la cosa di cui mi sto occupando proprio in questi giorni ovvero un lavoro sull'impatto che può aver avuto la traduzione la prima traduzione di To the Lighthouse che fu tradotto inizialmente come Gita al Faro sulle lettrice sui lettori italiani e sulla prima ricezione soprattutto femminista perché se è vero che ci sono degli esempi di censura per la scrittura di Woolf nel senso che ad esempio Mrs. Dalloway ha delle scene censurate anche se è una censura particolare nel senso che quando si trattava di vera e propria censura venivano proprio tagliate in pagine intere paragrafi interi e ci sono esempi di questo in altre opere di altri scrittori in Mrs. Dalloway troviamo semplicemente il bacio tra le due donne cioè tra Sally, Seton e Clarissa Dalloway che scompare nelle prime pagine del romanzo perché Sally bacia un fiore anziché baciare Clarissa questo perché probabilmente la traduttrice cercava di renderlo comunque pubblicabile e fargli superare la censura perché il rischio era che si andasse in stampa si pubblicassero tutte le copie e poi il ministero il mini cool pop ritirasse le copie quindi un grande danno anche per le editore per evitare questo insomma si cercava un po' di tagliare il tagliabile il resto però non poteva essere tagliato cioè avrebbero dovuto eliminare del tutto ad esempio il personaggio di Septimus che non era presentabile essendo un uomo demascolinizzato vittima della guerra che la guerra aveva stravolto e ridotto un fantasma di se stesso e quindi non era pensabile proporre un personaggio così negli anni 40 in Italia in piena guerra in pieno regime fascista e quindi semplicemente non venne alla fine pubblicato però mentre questi sono esempi che hanno a che fare proprio con una censura anche ideologica quelli che vorrei farvi vengono da appunto To the Lighthouse dalla prima traduzione di To the Lighthouse e non hanno tanto a che fare con la come si dice la censura ecco e con l'ideologia fascista ma proprio più con un sentire direi che un condizionamento culturale della traduttrice perché prendiamo il momento in cui faccio proprio solo due esempi il romanzo non è pieno però faccio due esempi che trovo abbastanza cruciali prendiamo l'esempio del momento in cui Mrs. Ramsey vede guarda Lily Brisco per la prima volta riflettendo su di lei e la guarda vede che con questo visuccio con questi occhietti un po' cinesi la sua faccina she would never marry e lo pensa dicendo poveretta non troverà il suo ruolo nella società che per all'epoca insomma una donna nubile aveva i suoi bei problemini nella traduzione di Celenza però del 1934 c'è una quasi una ricostruzione oppositiva delle due donne cioè lo sguardo di Mrs. Ramsey è uno sguardo che giudica infatti dice con quegli occhietti cinese quel visuccio non c'era caso che quella lì trovasse marito ora parte la traduzione di sposarsi con trovare marito che già ha un'influenza culturale di stampo molto più patriarcale ma anche quella lì è un modo denigratorio di rivolgersi alle altre donne almeno nella mia storia familiare quando la mia nonna diceva quella lì non stava parlando bene di quella donna di cui stava parlando e soprattutto se confrontiamo la traduzione di Celenza con la prima ritraduzione che è quella di Nadia Fusini vediamo come questa effettiva opposizione questo contrasto tra le due donne scompaia con quel visuavizzito non si sposerà mai vedete che quella lì ad esempio scompare un altro esempio viene dalla cena che è nella prima parte del faro la finestra la prima sezione del romanzo nel capitolo 17 questo bellissimo capitolo Wolf lo considera il suo capolavoro lei dice c'è Mrs. Ramsey che si guarda intorno guarda la stanza guarda i suoi commensali e pensa che prima di tutto there was no beauty anywhere non c'era bellezza da nessuna parte e poi nothing seemed to have merged sembrava che le cose non si collegassero non si unissero non si fondessero non si legassero la traduzione di eccellenza qui è particolare soprattutto nella frase chiave che secondo ad esempio Liliana Rampello è l'incarnazione di Mrs. Ramsey che dice quindi lo sforzo del legare del fluire del creare stava tutto su di lei Fusini infatti traduce lo sforzo del legare poggiava tutto su di lei questi tre verbi in italiano scompaiono allora intanto nothing seemed to have merged diventa l'affiatamento mancava quindi tra l'idea di essere legato di essere connesso si passa invece a un'idea di affiatamento quindi gli ospiti che vanno d'accordo tra loro idea che viene ulteriormente amplificata nell'ultima frase che è tradotta lo sforzo di ravvivare la conversazione di diffondere un senso di cordialità toccava a lei ecco vedete che è ben diverso da quello che pensa e dice Mrs. Ramsey che è assolutamente donna nella sua riflessione prima ancora che moglie prima ancora che madre famiglia prima ancora che ospite a capotavola di questa tavolata di persone è una donna che riflette e dice sta sulle mie spalle il compito di legare fluire creare tre verbi pieni di significato pensate dal punto di vista cioè quanto ci sarebbe da dire anche solo del verbo fluire in una situazione così in un contesto così tre verbi che scompaiono completamente per lasciare spazio solo alla casalinga Mrs. Ramsey cioè che vuole ravvivare la conversazione degli ospiti per essere una buona padrona di casa ed essere cordiale dare un senso di cordialità ecco qui secondo me è proprio un esempio che mostra come non sia in atto nessun tipo di censura e come non abbia per nulla a che fare con la la cattiva conoscenza dell'inglese ad esempio Celenza da prova di conoscere perfettamente la lingua inglese durante tutta la traduzione ma è proprio un'influenza culturale sociale che viene appunto dal contesto dall'epoca in cui viveva la traduttrice dunque se Riva tu non hai altro da aggiungere io direi che noi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto e quindi intanto vi invitiamo se volete a fare commenti a darci spunti eccetera inizierei però a rispondere alle due persone che ci hanno fatto delle domande parto dalla domanda che viene fatta entrambe che è di Claudia Alborghetti che ci chiede quali database sono stati consultati per individuare le fonti e la domanda vale per entrambe Riva inizia a rispondere tu direi sì dunque grazie per la domanda è veramente cioè all'inizio ce la ponevamo anche noi cosa andremo a consultare ancora adesso la poniamo dunque nel mio caso le fonti delle informazioni sono state molto diverse allora ero partito ovviamente da tutta la bibliografia scientifica che già esisteva che non era non copriva tutto quello che mi interessava ma comunque era già un buon inizio per esempio per la ricezione tedesca di Grafian mi ha aiutato tanto la bibliografia poi però c'erano i campi non toccati proprio per niente insomma da altri studiosi prima di me quindi poi ho consultato cataloghi collettivi internazionali tipo WorldCat perché lì si possono trovare diciamo gli analoghi di un libro anche le traduzioni di un libro che cerchiamo anche in altre lingue quindi anche questo può aiutare da delle informazioni supplementari poi sono andata su vari cataloghi nazionali soprattutto nel caso diciamo delle lingue più esotiche tipo non so per esempio sono riuscita a consultare il catalogo della biblioteca delle biblioteche universitarie di Pechino per trovare almeno alcune delle traduzioni in cinese di Grafian lo stesso vale poi non so per la Finlandia per esempio lì i cataloghi delle biblioteche mi hanno aiutato tantissimo poi una fonte un po' insolita ma che devo dire inaspettatamente mi ha dato grandi soddisfazioni sono stati i siti della vendita dei libri tipo Amazon che lui suggerisce cioè è lui da solo che ti fa questa ricerca e poi ti offre anche la preziosa possibilità di comprare di comprare un libro faccio giusto due esempi della mia ricca collezione di traduzioni di Grafian aspetta aspetta ti rimetto ti metto in grande così si vedono ecco allora qui vediamo è una traduzione adattamento americana questa qua invece è una delle traduzioni in giapponese e quando ricevi questi libri quando li puoi consultare di persona anche da lì ovviamente ricavi molte informazioni e poi quando hai individuato il traduttore si può separatamente puoi fare le ricerche su questo traduttore anche lì mettere insieme le varie fonti che dicano qualcosa su questa persona dunque sempre per rispondere a Claudia io devo dire avevo il problema non solo delle traduzioni ma per me la cosa più difficile da reperire sono gli studi cioè gli articoli pubblicati eccetera per la prima parte cioè per la prima parte del novecento mi sono stati utilissimi i database che raccoglievano il lavoro di schedatura delle riviste quindi in primis Iri de Novecento che era un database al quale io avevo lavorato all'Università Cattolica del Sacro Cuore durante il dottorato e infatti la mia tesi di dottorato fu anche il risultato di quella ricerca perché Iri de Novecento schedava appunto tutti gli articoli comparsi sulle riviste italiane del primo novecento della prima metà del novecento uso il passato perché purtroppo al momento non è disponibile il database di Iri de Novecento poi ho usato Circe che invece è sempre il catalogo delle riviste culturali europee dell'Università di Trento e anche quello lo uso tuttora quando mi servono notizie da insomma sulle riviste italiane c'è poi Italinemo che anche quello raccoglie tutti gli articoli scritti da studiosi italiani o apparsi su riviste italiane quindi questi diciamo i più grossi database che ho usato oltre ovviamente agli OPAC SBN bibliotecario nazionale biblioteca nazionale di Roma eccetera e poi devo dire che io sono stata un po' schiavista nel senso che ho approfittato biecamente dell'Italian Virginia Woolf Society lanciando un appello e dicendo se avete scritto qualcosa mettetevi in contatto con me e ho creato all'interno del mio database la figura del contributor su suggerimento anche devo dire dell'advisor in digital humanities all'università di Reading che mi è stata utilissima da questo punto di vista mi è stato proprio suggerito di avere dei contributors cioè persone che contribuivano a lavorare a questa cosa insieme a me quindi le persone che ad esempio mi mandano notizie di loro pubblicazioni di loro articoli di loro recensioni eccetera se mi mandano un numero minimo diciamo di queste pubblicazioni possono poi apparire nei nomi dei contributori cioè di quelli che hanno contribuito alla produzione del mio database quindi ecco insomma un po' un mix di cose metto un'altra domanda che è quella di Caterina Lais che è più rivolta credo a me ma rispondo quindi molto velocemente cioè lei mi diceva se posso dire qualcosa in più sul database per gli insegnanti in realtà non ho moltissimo da dire se non che l'idea parte proprio dalla risposta di una delle insegnanti che diceva vorrei anzi proprio prendo la sua testimonianza mi piacerebbe trovare materiale che mi aiuti a preparare i miei corsi ad esempio riassunti o estratti dalle pubblicazioni con cui potrei lavorare in classe allora non è questo il tipo di lavoro che si potrà fare con il mio database però ad esempio una cosa che ci sarà nel database sarà avere non solo il titolo e l'autore di un determinato articolo di un determinato capitolo di libro ma anche gli abstract la descrizione questo ad esempio permetterà a un insegnante che come sappiamo non è che abbia tutto questo tempo da dedicare alla ricerca e allo studio all'approfondimento perché ha mille riunioni consigli di classe eccetera eccetera di non perdere tempo a leggere magari un intero articolo per scoprire che non interessa o che è troppo specifico che non è quello che vorrebbe fare in classe ma guardando solo l'abstract dell'articolo la descrizione breve riassunto dire ok questo lo scarico quest'altro invece no quindi ho cercato ecco di essere di aiuto in questo senso in questo caso abbiamo poi un'altra domanda sulla eccola qui Vittoria Principe ciao Vittoria una mia carissima amica che chiede se abbiamo approfondito la questione dell'influenza socio-culturale nelle traduzioni e se sì dove allora in parte ne abbiamo già parlato giusto Riva cioè in parte appunto ad esempio gli esempi che ho fatto sono chiaramente dati dal contesto culturale cioè come dicevo non è che Giulia Celenza non conoscesse l'inglese o non avesse capito cosa ci fosse scritto semplicemente rimanendole magari rimanendole oscura una frase si è appoggiata all'idea che aveva culturalmente e socialmente di donna di madre di moglie che quindi deve intrattenere gli ospiti più che non pensare a legare il creare per fare un esempio ma ovviamente ci sono influenze anche date come ho fatto l'esempio della censura e poi anche io direi più recentemente con questo rifiorire per quanto riguarda Wolf poi magari Riva invece sarà più specifica visto che lei si occupa di un arco di tempo molto più ampio per quanto riguarda Wolf nelle ritraduzioni più attuali siccome appunto i diritti sono pubblici quindi chiunque può ritradurre io ho trovato anche ahimè non farò nomi me ne guarderò bene però ho trovato traduzioni fatte per piccoli editori fatte insomma maluccio posso dire ecco senza cattiveria ma magari spinti dall'ondata di dire ah finalmente possiamo avere in catalogo Wolf e qui ecco non è una influenza culturale però un'influenza di contesto cioè scadono i diritti finalmente anche un piccolo editore che non si sarebbe potuto permettere di comprare i diritti di Wolf la può tradurre il problema è che appunto non è pane per tutti i denti tradurre Wolf come dicevamo sia Balthasar Grafian sia Virginia Wolf sono due autori piuttosto complessi e non tutti si possono mettere seduti e improvvisarsi con prose così complesse ecco non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento Riva domanda non era rivolta a me comunque magari potrei dire due cosucce il problema dei traduttori non professionisti si presenta molto diciamo negli ultimi anni per le traduzioni di Balthasar Grafian che vedo il curriculum degli ultimi traduttori di Grafian a volte la gente che veramente non ha la preparazione sufficiente e nel caso di Grafian è importante avere una seria base letteraria e linguistica alle spalle un background molto insomma robusto e invece un altro esempio che è un po' più diciamo che credo possa risultare interessante per per il nostro pubblico italiano un esempio però diciamo che va più sulle mie parti sono russa non l'ho detto ma anche per parlare tante lingue Riva che sembri davvero sei cittadina del mondo e quindi diciamo ero anche partita da un testo russo nel mio interesse per Balthasar Grafian e ho trovato molto interessante trovo interessante il fatto che nel ventesimo secolo le traduzioni le traduzioni russe dei testi di Balthasar Grafian sono fatte da da una da una coppia in realtà marito e moglie per lo più la moglie ma insomma anche il marito ha contribuito insomma in maniera sostanziale allora per loro Balthasar Grafian era un esempio di tanti della cultura occidentale inaccessibile che sta lì oltre alla cortina di ferro impenetrabile quindi qualcosa di qualcosa di bello a prescindere di interessante a prescindere e anche di antico bello anche nella sua antichità perché la cultura sovietica ha voluto fare mettere una fortissima cesura con il passato quindi cercare di recuperare il passato era di per sé un'operazione abbastanza sovversiva quindi quando loro soprattutto lei quando traduce questo testo negli anni 70 80 usa uno stile estremamente estremamente antiquato e quindi fa di questo testo che era un prontuario di uso quasi quotidiano vi ho fatto anche vedere il formato veramente Graziano aveva concepito come teniamo il cellulare in tasca per tirarlo fuori a ogni occasione lui così aveva concepito i suoi libri invece queste edizioni sovietiche ne fanno una specie di monumento in una teca di cristallo impenetrabile perché apprezzano in lui questa dimensione culturale occidentale e storica e quindi un testo fortemente arcaicezzante diciamo difficile da leggere ma non per il motivo che lo reggeva difficile da leggere in spagnolo quindi anche lo stile della traduzione è spesso dettato dalle circostanze storico-politiche proprio abbiamo un'altra domanda Riva argomento interessante grazie vorrei sapere quale vi risulta essere la criticità maggiore negli studi sulla ricezione di un opera o un autore ah 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 parti tu o parto io posso partire io perché insomma avevo già notato questa domanda e mi è sembrata interessante e ho ragionato su cosa avrei potuto rispondere la risposta non sarà esaustiva ovviamente solo indicativa allora nel mio caso ovviamente l'ostacolo più grande è che prendendo tutta la ricezione mi obbligo a lavorare con le lingue veramente molto lontane anche da già le mie conoscenze linguistiche sono poche però comunque questo è andato molto al di là di quello che mi aspettavo non mi aspettavo traduzioni in cinesi in giapponesi in kazako o in estone e quindi poi però ti arrivano anche con questo devo cercare di lavorare in qualche maniera quindi c'è questo grande importante ostacolo che si può superare in parte ma insomma non totalmente reperire i libri nel mio caso non è facile ovviamente il covid non ha aiutato per niente però per fortuna molti libri non tutti molti si possono vabbè si possono comprare molti no ma molti li avevo già consultati prima per fortuna perché già insomma mi interessava questo tema già prima di cominciare questo progetto strutturato così poi un altro aspetto che magari potrei insomma potrei citare è che allora bisogna quando leggi una traduzione di un testo e la analizzi praticamente oltre al fatto che stai leggendo due testi in due lingue diversi stai avendo a che fare con almeno due polisistemi diversi quindi non è solo la lingua è anche tutta l'impostazione culturale stilistica proprio grandi concezioni perché per esempio se leggo un testo barocco tradotto in una maniera neoclassica ma molto neoclassica devo costantemente come dire far funzionare il mio cervello a due velocità è affascinante anche questa procedura ma è tosta beh allora le mie sono difficoltà in realtà molto diverse da quelle di Riva perché io non ho tutta questa difficoltà dovuta alle lingue perché ovviamente mi occupo di una parte molto più contenuta cioè solo della ricezione italiana per me la parte più complessa è siccome proprio mi interessa il rapporto con i lettori mi interessa capire come veniva letta Wolff e qui come fare a capire come veniva letta dall'elettrice o dai lettori nel 1940 nel 1950 60 perché oggi io posso andare in giro e chiedere o cercare di capire anche grazie agli eventi che facciamo non so con la Virginia Woolf Society ma indietro bisogna capire appunto ho cercato di capire come arrivava ai lettori quindi tutte le dinamiche editoriali tutte le dinamiche di recensione chi ne parlava dove ne parlava ad esempio la ricerca sui quotidiani è interessante perché sui quotidiani c'è sia le recensioni vere e proprie delle opere che venivano man mano tradotte pubblicate eccetera ma c'era anche una presenza ad esempio lavoro che ho fatto sull'archivio del Corriere della Sera serata del circolo culturale di Gropello Cairo piuttosto che della piccola borgata eccetera dove però si leggeva il romanzo di Woolf e allora mi dico ma guarda è letto qui è letto lì nelle varie biblioteche in quali anni è più letta ecco ho proprio cercato di ricostruire una mappa della presenza di Woolf nei circoli dei lettori non potendo fare molto di più nel senso che più di così non è che posso andare indietro nel tempo a fare domande e poi ecco una metodologia che ho utilizzato è quella delle interviste cioè sto cercando di raccogliere il più possibile interviste a traduttori traduttrici curatori e curatrici studiose femministe storiche per chiedere loro come l'hanno letta si ricordano come veniva letta ad esempio per una femminista storica ricordare come leggeva Woolf nei suoi circoli mi è utile e poi qui ecco un lavoro che appunto ha fatto di recente che sta per essere pubblicato è stato proprio leggere gli appunti dei gruppi dei collettivi femministi della libreria delle donne di Milano avrei voluto poi arrivare anche agli archivi della Casa Internazionale delle Donne di Roma ma purtroppo sempre grazie covid non è stato possibile speriamo di poterlo fare in futuro però ad esempio quegli archivi che sono custoditi al Centro Studi Movimenti di Parma sono stati per me preziosissimi perché mi davano proprio una percezione di come veniva letta e come veniva interpretata e goduta Woolf dalle donne di quell'epoca speriamo di avervi risposto e se non ci sono altre domande io direi che possiamo non tediarvi oltre siamo state abbastanza brave sotto l'ora e mezza però insomma dai siamo state bravine e quantomeno come tempi poi se siamo state davvero brave non lo sappiamo vi ringraziamo moltissimo ah ecco una cosa vorrei dire a proposito delle Marie Curie Action che sono quello che ci permette di fare questo lavoro e che ci ha unite in questo confronto una cosa che io ho notato tra me e me mentre scrivevo il progetto e che vedo nel progetto di Riva è che entrambe avevamo questo progetto nel cassetto entrambi ci stavamo lavorando da anni ed è un po' come se in qualche modo avremmo trovato il modo di lavorarci comunque e io credo che questo sia fondamentale cioè quando si fa si scrive una proposta per un Grant Marie Curie non si può pensare di avere un'idea completamente nuova sulla quale non si è mai lavorato prima cioè l'ideale sarebbe andare a colmare un gap no andare a fare qualcosa che già si è sia dentro di sé e si vorrebbe portare avanti in qualche modo perché io credo che questo il valutatore lo senta in termini di possibile messa in pratica del progetto cioè se abbiamo davvero idea di come lo faremmo anche senza fondi abbiamo idea di come lo faremmo anche coi fondi e questo lo rende verosimile e credibile sei d'accordo Riva? sì vorrei dire che quando ricevi questo finanziamento finalmente puoi lavorare su questo progetto ha veramente la dimensione di un sogno realizzato e nel mio caso mi ha portato anche a Parigi che era anche un posto dove senza covid non me lo immaginavo così come adesso ma comunque dove volevo andare quindi è stata una bellissima opportunità e sono anche per ultimo devo dire che sono molto contenta che questo sistema dei finanziamenti delle borse ma di più mi ha fatto conoscere Elisa perché veramente insomma sono molto contenta molto soddisfatta e ti ringrazio tantissimo per aver organizzato questo incontro veramente me lo sono goduto sia durante che anche nella preparazione insomma speriamo che non è l'ultima volta che collaboriamo no no è l'inizio di una bella amicizia molto casablanca Claudia ci fa un'ultima domanda quanto tempo dura il finanziamento Marie Curie si può scegliere la durata di 12 mesi o di 24 cioè un anno o due anni tutti scelgono i due anni anche perché in un anno che fai e quindi hai di fatto i due anni per produrre determinati risultati che sono considerate le milestones e poi ovviamente hai un po' di tempo dopo per cioè ad esempio non so è ovvio che io non sarei riuscita a scrivere il libro a fare tutta la ricerca e a scrivere il libro entro i due anni si ha del tempo dopo per poter concludere gli ultimi risultati però diciamo che il lavoro il finanziamento della ricerca dura 24 mesi di solito tutti non scelgono l'opzione dei 24 mesi e appunto concordo sul sogno realizzato i miei progetti erano un pochino diversi perché appunto con tutta la difficoltà di dover lasciare a casa marito e figlio però era il mio momento per ritagliarmi quello spazio di studio esclusivo di ricerca esclusiva che non ero mai riuscita ad avere prima e invece sono chiusa in casa mia a preparare pranzi e cene ma va bene così diciamo che è stato molto meno faticoso in termini familiari molto meno realizzazione di sogno però ecco devo dire ho potuto i primi 4 mesi invece me li sono goduti nell'università di Reading facendo solo ricerca che per noi chi fa questo lavoro è veramente un sogno potendo andare in giro viaggiare vedere tutti quegli archivi che avrei sempre voluto visitare ma non riuscivo perché stavo insegnando stavo facendo stavo lavorando mi servivano i soldi e non ce li avevo e invece si può quindi sì deve essere un progetto che avete in cantiere che avete un sogno nel cassetto che sapete come realizzare e poi però la possibilità di realizzarlo ve la danno davvero quindi insomma per citare il maestro Yoda non c'è provare fare o non fare fatelo se pensate che possa essere un'idea che possa essere una buona idea per voi il bando Marie Curie provateci ma provateci pensando di farlo non pensando vabbè io ci provo poi vedremo no fare o non fare e vedrete che insomma qualcosa arriverà sì magari devo per ultima cosa non so se è molto opportuno ma credo che forse dovremmo tutte e due un po' possiamo raccomandarvi un po' nella preparazione dei banni di assistere alle giornate diciamo alle giornate di studio che organizza l'Università Cattolica di Milano perché in effetti abbiamo scoperto perché anche questa cosa abbiamo in comune nelle nostre biografie intellettuali perché io ho lavorato per qualche anno all'Università Cattolica di Milano insomma ed è stato e ho frequentato lì ho potuto lì assistere mentre insegnavo ho potuto assistere a una giornata dove insomma ci davano delle informazioni quindi apparentemente funzionano quelle giornate è vero anche per me fu devo dire fu molto importante perché mi accorsi che io pensavo che la mia idea ho detto ma io ci ho già lavorato per tanto sul mio progetto sulla ricezione di Wolf in Italia avevo già scritto due libri sull'argomento però effettivamente arrivavo agli anni 60 e toccavo solo una minima parte della ricezione italiana però pensavo vabbè ormai basta questa cosa come dire sadista antio perché ci ho già fatto troppo e invece proprio nella giornata di presentazione dei bandi Marie Curie ho compreso che non era affatto così anzi era proprio quel tipo di lavoro lì che cercava l'Unione Europea cioè cercano di finanziare quei ricercatori e quelle ricercatrici che hanno un lavoro che vorrebbero portare avanti che è pronto per essere portato avanti proprio perché ha già delle radici esiste già in nuce da qualche parte e quindi serve solo lo stimolo l'opportunità per portarla avanti quindi veramente ad esempio per me è servito capire questa cosa e me l'ha fatta capire questa giornata di formazione quindi sicuramente gli incontri di presentazione e di formazione sono molto utili e poi frequentare i circoli dei cioè ci sono appunto i gruppi anche banalmente sui social network c'è molto aiuto reciproco perché ci deve essere questo spirito cioè il pensare che ci sfidiamo gli uni con gli altri non ha senso in questo contesto cioè in realtà ci aiutiamo e basta gli uni con gli altri entrare in quest'ottica veramente di totale condivisione per cui condividere i propri progetti condividere tutto quello che si può condividere io stessa adesso che sono che ho la possibilità di farlo con i fondi cerco un po' perché lo richiede la borsa un po' perché cerco di cambiare la mia mentalità di pubblicare solo open access per permettere ad esempio a tutti i giovani e le giovani di accedere anche agli studi anche se non ci si hanno dei fondi per pagarsi la lettura del singolo articolo o l'abbonamento alla tal rivista quindi ad esempio questa è un'altra cosa importante bene direi che possiamo chiudere vi ringraziamo tantissimo per averci seguiti il video rimarrà sulla pagina dell'evento e rimarrà in teoria su youtube se non rimane su youtube lo carico io e lo troverete poi sul canale quindi buona serata a tutte e a tutti grazie mille per averci seguiti grazie a te grazie a te Riva grazie a te grazie a te